Stop alle trivelle, è la manifestazione che ha messo in campo Legambiente con il passaggio di Goletta Verde a Lido di Dante. No oil. Il passaggio vicino alla piattaforma Angela Angelina vuole dire no alle estrazioni e fermare la subsidenza. Il perché di questo flash mob, di questa battaglia che voi portate oggi a Lido di Dante? C'è un perché nazionale ed uno locale, regionale. Il perché nazionale è che ancora in Italia purtroppo le fonti fossili, compreso il petrolio, il petrolio a mare che è un rischio fortissimo per l'ecosistema e anche per il turismo e tutt'oggi si continuano a mandare avanti delle ricerche di petrolio a mare. Queste fonti continuano a essere sovvenzionate dallo Stato attraverso degli sgravi fiscali. Un problema particolare ce l'abbiamo qui in Emilia Romagna, abbiamo la piattaforma più vicina alla costa di tutto il paese, Angela Angelina qui a Lido di Dante e non è un caso che in questo luogo si abbia la subsidenza, cioè l'abbassamento del suolo più alta di tutta la regione. Questi sono dati testimoniati da ARPA. In 30 anni la costa è scesa di 45 centimetri, che è un numero elevatissimo, che mette a rischio cose, beni, l'economia del luogo e questa subsidenza è fortemente influenzata dall'estrazione di fluidi dal sottosuolo e quindi avere una piattaforma proprio qui davanti ovviamente mette in correlazione questo enorme abbassamento di suolo con l'attività dell'uomo. Poi parlate anche di risparmi economici, immagino invece che dall'altra parte si parlerà di danno economico. Sì, di danno economico perché evidentemente Eni ogni anno fornisce risorse che poi vengono utilizzate per difendere la costa però è evidente che questi sono dei pagliativi perché basta vedere le mareggiate invernali quanto proprio qui di fronte erodano ogni anno quindi noi usiamo questi soldi per tamponare provvisoriamente ma i danni sono danni irreversibili e i cittadini e l'economia di questo posto le sconteranno per decenni a venire e quindi sicuramente anche economicamente il gioco non vale la candela. Noi peraltro abbiamo iniziato una campagna nazionale per segnalare come Eni questa società che peraltro è nazionale, controllata dallo Stato, investe pochissimo sulle rinnovabili e invece noi crediamo che debba cambiare direzione di marcia non più investire sulle fossili che inquinano il pianeta ma investire il suo know-how e le sue risorse economiche in innovazioni e rinnovabili. Goletta Verde c'è e monitora il mare e monitora queste situazioni che per voi sono pericolose? Sì, da più di 30 anni appunto compiamo il peribrio dell'Italia e con la tappa emiliana è la tredicesima regione che noi tocchiamo quest'anno. Il nostro obiettivo è quello di monitorare il mare ma non solo, tutto l'ecosistema che ruota intorno alla costa e quindi anche tutto l'aspetto dell'erosione costiera, della cementificazione sono problemi e temi che noi affrontiamo così come quelli dei rifiuti e delle plastiche a mare. Lei rappresenta il comitato cittadini di Lido di Dante e siete preoccupati? Ma non da adesso siamo preoccupati, noi siamo preoccupati da quando sono state fuori poi dopo le varie verifiche e l'idotteriana dall'84 al 2011 è calata di 45 centimetri, l'idotteriana di 40 centimetri. Anche se smettessero domani, noi per 30 anni avremmo sempre il fattore di subsidenza perché è un fattore irreversibile, non è che smette domani e finisce la subsidenza. Un po' di angoscia c'è, maggiormente per chi qui ci ha investiti proprio di sparmi di una vita.